Buonasera e benvenuti a questa conferenza che speriamo che in un giorno non troppo lontano potremmo ottenere dal vivo e non in modo virtuale. Però prima, come constitutine, la Dante Righeri riconosce i primi abitanti e tradizionali custodi di questa terra, il popolo Gadigal della nozione Eora, e saluta i loro padri passati, presenti e futuri. Allora, eccoci stasera a parlare di un personaggio famoso in tutto il mondo, sia per i grandi che per i piccini. Si tratta di Carlo Collodi, altresì Carlo Lorenzini, come si firmava. Collodi, per chi non lo sa, è un paese medievale molto carino in Toscana, vicino a Lucca, dove Carlo Lorenzini trascorse buona parte della sua infanzia, la madre veniva da là e da cui prese il nome d'arte. Il libro, Le avventure di Pinocchio, storia di un buratino, è qualcosa di più di una favola. È un'analisi ed una introspezione delle condizioni sociali, culturali e politiche del tempo. E tutti i personaggi, dal gatto alla volpe, alla fata turchina, rappresentano un aspetto di quel mondo. La associate professora Giorgia Alu, del Department of Italian Studies dell'Università di Sydney, è ben qualificata per parlarci stasera del mondo di Pinocchio e della storia culturale del XIX secolo in Italia. Ma questo basta per me e lascio la parola a Giorgia che vi porterà in un mondo al di là dei cartoni animati. Buon ascolto. Grazie, grazie Fabio. Grazie dell'invito per questa possibilità di parlare un po' di Carlo Lorenzini o Carlo Collodi, come tu stesso hai detto. Provo a condividere il PowerPoint che ho preparato anche per facilitare, per rendere un po' più piacevole la mia presentazione. Quando mi è stato fatto l'invito l'accento è stato messo esclusivamente su Carlo Collodi e effettivamente a ottobre si ricorda un po' la scomparsa di Collodi nel 1890, appunto è questo anniversario e quindi è giusto che si parli di lui come il papà effettivo di questo personaggio famosissimo che tutti conosciamo, che è Pinocchio. Il titolo che io appunto avevo proposto per la mia presentazione era questo C'era una volta e Real Boy e mette in un certo senso in evidenza un po' il discorso che faccio oggi perché lo scopo è quello di partire da Pinocchio, effettivamente da questo personaggio famosissimo che è entrato da subito all'interno di quella che viene considerata appunto la letteratura mondiale. Si ricordano che sono tuttora esistenti più di 240 traduzioni di storia di un burattino, le avventure di Pinocchio, quindi traduzioni anche in lingue che spesso vengono considerate minori e il numero delle edizioni dello stesso libro sono innumerevoli, tra l'altro se ne è perso addirittura il conto. Il titolo quindi per me era C'era una volta e Real Boy perché da una parte come tutti sappiamo appunto questo è l'incipit, l'inizio di tutte le favole, l'inizio anche di questa storia di Pinocchio che come sappiamo immediatamente comunque collodi e stravolge. E poi tra l'altro la seconda parte invece quindi è Real Boy, questo desiderio che esprime nel corso della sua storia, nel corso delle sue avventure Pinocchio quello di diventare effettivamente un bambino. Ora questi due punti in un certo senso io li ho scelti perché mettono chiaramente in evidenza quella che è non soltanto questa storia che viene considerata spesso come una storia particolare, poliedrica, dalle mille sfaccettature, dai mille aspetti, diversi livelli e che nel corso degli anni è stata interpretata in diversi modi dalla simbologia cattolica, esoterica e così via, mette anche in evidenza quello che è un po' l'aspetto poliedrico del padre di Pinocchio che è appunto Carlo Lorenzini. Questo personaggio che spesso è stato considerato appartenente alla letteratura secondaria, una letteratura minore, raramente viene studiato anche nelle scuole, addirittura all'università, spesso viene trascurato. Ma che negli ultimi anni, anche grazie per esempio agli studi che sono stati fatti dall'edizione nazionale, dalla società, dall'associazione collodiane, è stato portato alla ribalta e se ne è messo chiaramente in evidenza quella che è l'importanza, uno scrittore chiaramente simpolo dell'Ottocento, dell'Italia moderna e della modernità anche di un'epoca. ci sono nel corso del Novecento in particolare, appunto con Benetto Croce e con altri studiosi anche, ci sono formate diciamo due strade, due correnti per quanto riguarda lo studio di Pinocchio. Una che ha sempre tentato di analizzare il personaggio di Pinocchio, la storia di Pinocchio, questo libro indipendentemente dalla vita del suo autore. È un'altra strada invece che effettivamente è stata seguita da molti, in particolare come dicevo appunto negli ultimi anni, che è quella che ha dato rilevanza alla figura di Collodi, perché è diciamo difficile capire questo lavoro, questo che è considerato appunto un capolavoro, senza avere in mente, senza avere una visione del suo creatore. Perché alla fine Pinocchio, che è questa storia che la cui composizione è cominciata nel 1880, poi si è conclusa nel 1883, effettivamente è l'ultimo stadio, l'ultimo momento della produzione letteraria di Collodi, che comincia moltissimi anni prima, già a partire dagli anni 40, dell'Ottocento e poi per emergere negli anni 50 e successivamente. Quindi quello che io provo a fare è quello appunto di partire, come abbiamo visto da questa figura, da questo libro, Pinocchio, però allo stesso tempo andare indietro e esplorare da dove viene effettivamente. Ed è subito appunto, come dicevo, questo incipit che è caratteristico di Collodi. Lui ci presenta, ci inganna per un attimo facendoci credere, facendo credere al suo pubblico di bambini, che non è esclusivamente un pubblico di bambini, perché come vedremo Collodi si rivolge apparentemente bambini, ma parla con gli adulti e si rivolge agli adulti e ci inganna facendoci credere che appunto sta per presentarci una storia, una fiabba, una favola, una storia di fantasia. immediatamente appunto cambia e ci presenta davanti invece una storia diversa, la storia di un burattino, di un pezzo, come dice lei, come appunto comincia la storia, di un pezzo di legno. Ora, come dicevo, cosa c'è dietro questo? C'è tutta la carriera di Collodi, c'è la carriera di Collodi come non soltanto creatore e scrittore di fiabbe e di racconti per bambini per l'infanzia, appartenente alla letteratura dell'infanzia, come spesso è stato diciamo catalogato, ma c'è un personaggio che nasce come giornalista, come pubblicista e già, come è stato scoperto negli ultimi anni, appunto lavorando nelle carte collodiane, andando alla ricerca delle sue lettere del materiale negli archivi, si è scoperto effettivamente come prima ancora di diventare uno scrittore apprezzato in Italia era già stato apprezzato all'estero, in particolare in Francia. E si nota appunto come veniva già definito Collodi uno scrittore ingegnoso, pieno di ispirazione e di umorismo. Le scene che ci presenta in questo volume raggiungono quasi tutte quel grado di ironia e di finezza che trascina i lettori come frutti amari con colori brillanti. Can you see my powerpoint? Is all fine? Ok. Carlo Lorenzini, come abbiamo detto prima, appunto nasce, effettivamente nasce a Firenze. La famiglia era originaria di Collodi, questo paesino vicino Pescia, un paesino graziosissimo e appartiene ad una famiglia umile che però grazie all'aiuto del Marchese Ginori, il famoso appunto Marchese, la famosa famiglia delle porcellane, riesce a studiare. Il papà era un cuoco per la famiglia Ginori, la mamma era una sarta, ogni tanto insegnava anche ai figlioli. Viene da una famiglia anche numerosa, alcuni dei fratelli muoiono ancora giovani ed ecco che Collodi già assaggia quelle che sono un po' appunto delle esperienze amare, in certo senso appunto tristi e di morte che poi effettivamente emergono in questo racconto di Pinocchio. Grazie appunto a questa famiglia riesce a studiare, frequenta le scuole elementari a Collodi, poi addirittura lo fanno entrare in seminario, però lui abbandona questi studi, si deve dedica ai studi di estetica, ai studi di filosofia e di letteratura. E subito, negli anni, ancora negli anni 40, entra e comincia a collaborare con una libreria famosa che è la libreria Piatti. Ora, questa era non solo una libreria nota di Firenze, ma era anche una casa editrice, collaborerà con la Piatti per diversi anni, saranno infatti anche loro che lo aiuteranno nelle prime pubblicazioni e nelle prime opere. Ma la libreria Piatti era anche qualcos'altro, era diciamo un luogo di incontro di diversi patrioti liberali dell'epoca, ma anche di diversi scrittori e letterati, tra i quali Leopardi. E si è scoperto appunto come Collodi fosse un grande ammiratore, un apprezzatore di Leopardi e come alcuni aspetti, in particolare l'uso dell'umorismo di Leopardi, poi si trovano nei suoi scritti, negli scritti appunto di Lorenzini, di Collodi, negli scritti giornalistici e poi anche in Pinocchio. Ecco che quindi piano piano un po' stiamo mettendo insieme questi tasselli, questi elementi, questo puzzle che ci conducono poi a questa opera finale, a questo capolavoro che è appunto la storia di un burattino. Come dicevo prima, in questa libreria si incontrano appunto anche patrioti liberali e questo è un altro aspetto importante della carriera e della vita di Collodi da tenere in considerazione anche in visione appunto della storia di Pinocchio. perché Collodi attraverso i suoi scritti giornalistici in particolare è anche impegnato dal punto di vista etico-politico. Inizialmente è un patriota, è un repubblicano, ammira, legge e mazzini. Poi nel corso degli anni comincia anche a credere nella possibilità appunto non solo di unità d'Italia ma anche di unità e di un re, di una monarchia. Questi interessi comunque politici a questa attenzione nei confronti delle vicende politiche le mette anche effettivamente in pratica perché per ben due volte nel 1848 e poi nel 1858 si arruola volontario nell'esercito e combatte anche per due delle guerre di indipendenza italiane. Ed ecco come praticamente questo appunto quello che troviamo già in alcuni suoi scritti, in alcuni suoi scritti giornalistici. Collodi collabora con riviste che vanno dal nazionale, dal lampione e appunto manda un po' di questi messaggi in cui si trova appunto questo suo impegno etico-politico. L'Italia, grazie appunto dei suoi piccoli e deboli stati, invece di essere uno stivale come asterisce la carta geografica, fu sempre una pantofola e qualche volta una ciabatta. Facciamo da capo un bello stivale tutto d'un pezzo e poi vedrete che pedate a chi ci volesse usare delle prepotenze. Ed ecco che non solo troviamo appunto questo suo impegno, queste sue aspirazioni, in un certo senso questo patriottismo, però effettivamente quella che è la penna, la larguzia, l'umorismo di Collodi che caratterizzeranno appunto tutti i suoi scritti. Nel corso della sua carriera, comunque poi in seguito all'unificazione italiana, questo patriottismo si va affievolendo e si tramuta, si trasforma poi in delusione. Questa amarezza che poi lui esprimerà chiaramente non solo negli scritti giornalistici ma anche nel, in particolare, in, addirittura negli scritti che lui compone per i bambini, per i racconti, per l'infanzia ma anche in Pinocchio. E' interessante notare come, tra l'altro, a partire appunto poi negli anni settanta, lui riunisce, racchiude tutti i suoi articoli in una raccolta che viene chiamata, intitolata appunto, macchiette. Il, lo stile, quello che volevo dire era, non è una cosa, diciamo, sorprende questa attività giornalistica di Collodi e Collodi scrittore, perché all'epoca, tra l'altro, bisogna anche comprendere che la figura del giornalista era una figura diversa da come lo indentiamo adesso e come poi si è inteso già alla fine dell'Ottocento e poi all'inizio del Novecento. Il giornalista non era esclusivamente colui che si occupava di informazione, di fatti, eventi contemporanei, ma era effettivamente, erano spesso giovani molto preparati, molto attenti non solo ai fatti che gli eventi quotidiani, ma erano poi anche proprio degli scrittori veri e propri e così appunto lo era Collodi. In macchiette che appunto voglio in un certo senso farvi notare, lui mette insieme alcuni di questi suoi articoli e questo suo impegno etico-politico, quindi riordina un po' alcune delle sue pubblicazioni, questa è appunto la sua produzione pubblicistica e lo mette insieme in due raccolti, uno è Occhi e nasi, ricordi dal vero, e poi nel 1880 appunto crea, mette insieme questi suoi scritti in macchiette che mettono in evidenza appunto quello che dicevo prima è il suo stile perché crea appunto delle caricature, queste caricature di tipi del tempo, in particolare la borghesia fiorentina, la borghesia toscana, ma in generale la borghesia italiana. E quella società, quelle piccolezze appunto di questa società attaccata al denaro, attaccata alla moneta, questa società che rappresenta un po' anche il trionfo dell'arrivismo, è tutto conseguenza appunto dell'industrializzazione. Quindi lui crea un po' queste caricature, queste macchiette appunto, che non sono soltanto dei personaggi individuali, quindi non c'è soltanto il politico, il letterato tra l'altro, la dama e così via, però crea a sua volta, li mette anche nell'universale diciamo e lo fa come suo solito, con questo suo stile abbastanza sofisticato, che è quello di sorridere appunto spudoratamente. Utilizza moltissimi punti esclamativi che coinvolgono anche il lettore e gli fanno capire che appunto lui sta usando quello che è il suo omorismo e quella che è la sua ironia. Logicamente non era amato da tutti i collodi proprio per questo suo modo di fare, questo suo modo di scrivere, spesso i suoi scritti venivano un po' criticati, però ciononostante riusciva ad avere un buon pubblico e persone che lo apprezzavano l'ammiravano proprio per questa sua spontaneità. Il linguaggio che usa è un linguaggio, diciamo la lingua è una lingua che anche qui, ecco, che comincia a, cominciamo a vedere questo aspetto importante di collodi che è quello della lingua. È una lingua che alterna sempre da una parte toni non eccessivamente elevati, perché quello che collodi fa nel corso della sua carriera è quello di prendere in giro anche la letteratura più diciamo tipica, la prosa tradizionale, più conservatrice dell'Ottocento e dall'altra parte cercando, cerca sempre comunque di abbassare leggermente il tono e rivolgersi ad un pubblico più vasto attraverso una lingua che è appunto un plurilinguismo come viene definito, in cui entrano toscanismi, nella scrittura giornalistica entrano anche forestierismi e come è stato appunto definito da alcuni, in particolare appunto Daniela Marcheschi che è una delle più grandi studiose di collodi appunto che si è impegnata a mettere insieme le varie opere, le ha raccolte appunto all'interno di queste nuove edizioni. Collodi creava dei testi mistilingue in cui il tratto spontaneo dei modi dell'oralità era riproposto per far saltare la retorica tradizionale, così il linguaggio più popolare, quello della comunicazione e dell'espressione quotidiana con le sue formule e le sue frasi fatte e il linguaggio alto davano luogo a una sapida mescolanza parodica e comica ma sempre con effetti di straordinaria naturalezza. ed è quello che troviamo anche negli scritti per l'infanzia, anche se poi dal passaggio del giornalismo alla prosa, diciamo agli scritti in stamba e poi negli scritti di collodi un po' si vanno affivolendo alcuni tratti che erano tipicamente giornalistici, va perdendo collodi un po' quello che erano per esempio alcuni atteggiamenti eccessivamente caustici, eccessivamente diciamo pungenti, lascia un po' da parte anche quelli che erano i forestierismi appunto come dicevo tipici del giornalismo anche di allora. Però mantiene sempre una certa attenzione anche a quelle che sono le caratteristiche, le sfumature non solo dei toscanismi ma anche dell'Italia stessa e adesso lo vedremo quello che lui fa anche con i racconti per l'infanzia. Quindi un collodi giornalista ma un collodi anche è preciso lo pseudonimo di collodi è qualcosa che lui adotta non subito ma a partire negli anni cinquanta, proprio il momento in cui comincia a scrivere queste spesso, scrive degli interventi giornalistici magari eccessivamente come dicevo prima pungenti e allora comincia ad utilizzare questo pseudonimo che è appunto il nome del paese originario della madre. Ma abbiamo anche un collodi scrittore, un collodi romanziere. I racconti verso la fine appunto negli anni, nel corso della sua carriera si dedica a comporre due romanzi in particolare, in un certo senso quelli che sono rimasti un po' più noti. Uno è un romanzo in vapore da Firenze a Livorno, Guida, storico, umoristica, che scrive nel 1856 e poi l'anno successivo comincia a comporre Misteri di Firenze che comunque rimane incompiuto e poi in ogni caso viene poi pubblicato. Ma è un romanzo in vapore che è particolarmente interessante perché basta guardare il titolo e ancora una volta si nota questo dinamismo non solo della sua produzione, del suo stile, della sua scrittura ma anche questa sua capacità di spostarsi, di muoversi con grande nonchalance da un genere all'altro. Ed è questo che lo rendono appunto uno scrittore della modernità, uno scrittore nuovo, uno scrittore diciamo che è capace anche di giocare e di creare dei libri che comunque sono appunto in un certo senso e sono decisamente moderni, sono decisamente nuovi. È difficile per questo catalogare Collodi perché da una parte abbiamo insomma appunto la tradizione del Manzoni ancora fresca, Collodi scrive in un periodo in cui si affacciano quelli che sono appunto i grandi veristi da Capuana a Verga che tra l'altro Collodi conosce. Però quello che riesce a fare è ancora, cioè riesce addirittura ad andare e oltre. Un romanzo in vapore gli era stato proposto, appunto commissionato per lì in seguito all'inaugurazione della ferrovia Leopolda, la nuova ferrovia che collegava Firenze a Livorno e quindi gli viene commissionata la composizione, la scrittura di qualcosa, di una guida. Ecco che cosa fa Collodi? Mette insieme due generi, quello del romanzo, il romanzo un po' più borghese e dall'altra parte la guida di viaggio. Quindi da una parte il romanzo che comunque lui utilizza sempre in maniera in un certo senso umoristica perché Collodi continuamente prende un po' in giro come dicevo prima quelli che sono un po' i generi in un certo senso tradizionali. La prose, il romanzo sentimentale, la stessa poesia, nei suoi scritti addirittura prende in giro anche le opere di Verdi, la pittura dell'Ottocento, difende i macchiaioli e così anche in questo romanzo da una parte diciamo che utilizza il romanzo diciamo sentimentale e lo incastra al genere della guida di viaggio. La guida di viaggio che in quel periodo era decisamente di tendenza è considerato che appunto siamo già nella seconda metà dell'Ottocento, cominciano appunto ad essere costruite le prime linee ferroviarie nel resto dell'Europa decisamente ma anche in Italia. Le guide di viaggio appunto erano abbastanza note agli italiani che si spostavano anche all'estero, basta ricordare la guida del Bedecker che era decisamente nota e a cui lo stesso Collodi attinge. Ma prende anche come spunto quelli che erano appunto altri capolavori dell'epoca, per esempio il romanzo sentimentale di Lorenz Stern e crea in questo lavoro anche qui delle macchiette. Quindi all'inizio, i primi capitoli, fa finta di cominciare con una trama che è l'incontro di una coppia anzi addirittura la separazione di questa coppia perché uno di loro sta per salire sul treno e un po' appunto gli altri passeggeri che guardano, che assistono a questa separazione e questa descrizione appunto falsamente sentimentale. E poi man mano che i capitoli vanno avanti sono proprio delle guide di viaggio perché ci sono divagazioni di vario genere però allo stesso tempo sono presenti informazioni utili, curiose per il viaggiatore appunto che doveva spostarsi da Firenze a Livorno. ma è anche in questo in questo ibrido che lui crea che si vede quello che dicevo prima il dinamismo, questo dinamismo, questa mobilità, questa velocità che non è solo rappresentata dal treno appunto un romanzo in vapore, dai ritmi ma anche appunto dai ritmi della narrazione. quindi questo movimento, questo vapore che sta appunto per movimento della modernità anche quindi nel mezzo di trasporto ma anche di questa narrazione cangiante, dinamica, mobile che appunto troveremo anche in Pinocchio. Pinocchio è un personaggio che continuamente corre, si sposta, si muove e la mobilità, il dinamismo di Pinocchio come burattino lo si nota in tutti i capitoli. ci sono dei momenti in cui è costretto alla immobilità, nel momento in cui viene impiccato, nel momento in cui viene incatenato appunto come cane, nel momento in cui viene schiavizzato, viene ingerito dal pesce cane e così via. però nei suoi movimenti, anche questi scatti del personaggio, sta anche qui appunto diciamo questa modernità che è rappresentata da questa velocità e da questo dinamismo. ecco come comincia appunto un romanzo in vapore, facciamo una guida della strada ferrata a Leopolda, facciamola pure ma nessuno la comprerà. lo credi, ne sono sicuro, facciamo piuttosto un romanzo. come c'entra il romanzo col vapore? c'entra benissimo, anzi il titolo non potrebbe essere più seducente. un romanzo in vapore, appunto bello, magnifico, nuovo, stupendo. ed ecco che ogni capitolo e ogni vagone di questo treno ripresentano quella che era la caratteristica, la peculiarità appunto di Collodi, questo di creare, di dipingere delle caricature, personaggi originali. l'umorismo e la satira di Collodi, come dicevo prima, mira sempre determinati tipi che vanno appunto dal borghese in particolare, dalla borghesia italiana dell'epoca, le donne. le donne sono trattate particolarmente male, dallo stesso Collodi e l'umorismo, la satira sul matrimonio, sulle coppie, sull'amore che lui un po' presenta negli scritti giornalistici anche in questo lavoro, ma anche nell'altra opera che appunto i Misteri di Firenze. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è anche man mano che non abbiamo soltanto un Collodi, quindi come dicevo, giornalista, un Collodi narratore appunto in questi romanzi, ma un Collodi che si occupa anche, ancora prima, di teatro. E' un Collodi critico teatrale, scrive e lavora anche per il teatro, si occupa anche censore in alcune compagnie teatrali di Firenze. Ed è anche attraverso il teatro, scrive un paio di commedie che non hanno un grande successo, comunque negli anni 60 e nel 1861, subito, momenti in cui l'Italia, sia l'unificazione italiana, scrive una commedia. Gli estremi si toccano, alcuni anni dopo ne scrive gli amici di casa. Sono delle commedie che hanno un'accoglienza un po' tiepida, perché anche in queste opere teatrali i toni sono ironici e allo stesso tempo gravi, presenta ancora una volta quella che è una generazione involverita, destinata all'autodistruzione. Una generazione, anche una classe, sempre più corrotta, la presenta appunto in maniera, in un certo senso, veramente anche spietato. E quindi, come dicevo prima, questa visione un po' amara, questo pessimismo, non gli viene perdonato da diversi critici, a maggior ragione nel 1861, quando il Regno d'Italia era appena stato proclamato. Negli anni 70 abbiamo ecco un altro collodi, che è importante, un altro tassello, un altro pezzo del nostro puzzle, che ci porta a Pinocchio, che è collodi traduttore, prima di tutto. Collodi conosceva benissimo il francese, come ho detto era uno studioso, un intellettuale sofisticato, e gli viene affidata la traduzione dei conti di Perrault. Lui si dedica quindi a questa traduzione, che più che altro non parte dall'opera originale di Perrault, parte da alcune raccolte messe insieme nel corso degli anni. Sono i conti e le storie di Perrault, e anche altre favole della Contessa del Noir e di Jean-Marie le Prinze de Beaumont. E apporta diverse variazioni rispetto all'originale. I racconti delle fate mettono insieme quelle che erano anche qui, diversi generi, che però confluivano un po' del racconto fantastico. Appunto la favola del Settecento, o addirittura ancora prima, quindi le favole tipiche del Cinquecento, con i piacevoli notti di Straparole, metti insieme il racconto napoletano, il famoso culto di Giambattista Basile. E poi anche le novelle, novelle di fantasia, che vengono composte anche, come dicevo, contemporanee da autori dell'epoca, tra i quali appunto ho scapigliato Imbriani. Quello che è il progetto comunque di questi racconti, i racconti delle fate, era un progetto anche qui in un certo senso di carattere diciamo nazionale, collettivo. Cioè si mirava a creare, a pubblicare, a diffondere attraverso le favole appunto una determinata idea di pedagogia. Quindi i racconti erano in linea con il programma anche di politica linguistica della Nuova Italia, che aveva come principale scopo appunto quello di innalzare l'interesse per la lettura e di promuovere anche una lingua comune, possibilmente appunto basata sull'uso del toscano. Collodi abbassa però alcuni toni, rispetto un po' all'eleganza Roccocò di Perro del Seicento, abbassa quindi i toni e quello che fa è un altro lavoro, che è quello di creare un favolismo che è sempre più umano. Ed ecco che questo favolismo umano ci porta di nuovo a quel titolo appunto C'era una volta, quindi dall'altra parte, da una parte la favola, e real boy, al bambino, essere umano, in carne ed ossa, alla realtà appunto che troviamo in Pinocchio. Quello che fa, non è solo questo, è che ancora una volta inserisce quella che era un po' la sua personalità, decisamente ironica, decisamente sarcastica il più delle volte, e ne approfitto ancora una volta per mirare quelle che erano ancora appunto quelle sue categorie, in particolare le donne, il matrimonio e un po' la società dell'epoca. Ecco che così da un morale elegante, leggermente anche sensuale, con dei riferimenti anche sessuali che si trovavano nei racconti del Seicento di Perro, lui abbassa il tono, ma ci dà quasi una morale molto più spicciola di quello che dovrebbe essere in questo caso la conclusione della bella addormentata del bosco. Se questo racconto avesse voglia di insegnare qualche cosa, potrebbe insegnare alle fanciulle che chi dorme non piglia pesci né marito. La bella addormentata nel bosco dormì cent'anni e poi trovò lo sposo, ma il racconto forse è fatto apposta per dimostrare alle fanciulle che non sarebbe prudenza imitarne l'esempio. Ed ecco appunto questa vena, sempre elegante da una parte però decisamente molto più appunto spicciola del suomolismo, della sua scrittura. In questi anni che Lorenzini Collodi si rende conto dell'importanza della pedagogia e si rende conto appunto che tra le cose, come dice lui stesso, come pubblica appunto nel Fanfulla, tra le cose più difficili a parer mio è quella di scrivere un buon libro per ragazzi. Ora, l'Ottocento non è soltanto il trionfo della borghesia, è anche il secolo della pedagogia, vede un po' diffondersi, espandersi quello che è anche un po' stato il modello illuminista dell'educazione, dell'insegnamento e quindi la pedagogia aveva lo scopo, era più che altro una scienza che aveva come principale scopo quello di rendere liberi, indipendenti gli uomini, quindi i bambini e appunto gli uomini. Lorenzini si rende conto che questo è qualcosa di decisamente complicato, decisamente difficile, in particolare anche perché siamo già nell'Italia post-unitaria e questo suo pessimismo nei confronti delle istituzioni, di come anche, quindi come l'Italia veniva governata e della condizione appunto del paese in quel periodo cominciano appunto a rivelarsi, a farsi sempre più forti. Allo stesso tempo però la possibilità di scrivere per bambini, come gli viene offerto appunto per l'infanzia, si presenta anche come una buona opportunità perché non solo gli dà la possibilità di guadagnare, molti hanno un po' notato, hanno sempre sottolineato come Collodi scrive per l'infanzia e così poi scrive Pinocchio perché alla fine, anche se svolgeva diverse attività nel campo dell'amministrazione, non aveva una gran voglia di lavorare. Amava invece scrivere, ma amava anche giocare. Alcuni, appunto si è sempre detto come effettivamente lui scriveva questi racconti per pagarsi i debiti di gioco e così in particolare anche lo stesso Pinocchio gli era servito per pagare i suoi debiti. Altri però hanno notato come c'è una certa linea di coerenza ancora una volta che ci fa capire questo collodi appunto intellettuale, giornalista, impegnato eticamente, politicamente, che lo porta poi ad interessarsi a quella che è la formazione del nuovo fanciullo, del ragazzo, in un'Italia che si era appena unificata. Ed ecco che negli anni 70 pubblica quelle che sono delle opere con cui tra l'altro acquista una certa notorietà. una sono le raccolte appunto di Minuzzolo e l'altra in particolare le raccolte, i racconti di Giannettino che comincia a scrivere nel 1877. Si riprende un'opera dei libri che venivano adottati già a scuola all'inizio dell'Ottocento, era il Giannetto di Parravicini, tra l'altro delle opere scolastiche, dei libri scolastici particolarmente, dei libri di lettura abbastanza di successo e comunque in un certo senso li stravolge. Quindi se, perché cosa succede? Perché per collodi i libri di lettura, i libri di grammatica, i libri di geografia, i libri di storia, per lui fino ad allora erano effettivamente, ed era chiaro, erano eccessivamente seriosi, noiosi, spesso appunto scritti un po' anche da personaggi particolarmente cattedratici, da professori. Quello che lui fa è ancora qui quindi abbassare leggermente i toni con uno stile elegante per presentare determinati argomenti, determinate materie che vanno dalla lettura, cioè dalla scrittura, la grammatica, alla geografia, alla storia, a un pubblico di fanciulli. Ed ecco la serie di Giannettino. Viaggio per l'Italia di Giannettino, Italia superiore, Italia centrale, Italia meridionale, la grammatica di Giannettino, l'abbaco di Giannettino, la geografia di Giannettino, fino al 1890, che è l'anno della sua scomparsa, della sua morte, in cui esce la lanterna magica di Giannettino. Quindi queste diverse discipline vengono presentate sempre in questa maniera scherzosa, discorsiva, apertamente dialogica, che ha lo scopo di alleggerire un po' quello scopo didattico che era appunto di questi libri e quindi di rendere l'apprendimento piacevole e naturale. Come nei casi precedenti, questo spesso non era gradito da molti, perché effettivamente Collodi ancora una volta utilizzava questo stile un po' gioioso per presentare, per educare i fanciulli. Quindi spesso questi libri non ricevevano l'approvazione appunto dalle istituzioni dell'epoca. Ma ecco che ancora una volta abbiamo, come abbiamo visto prima nel Viaggio in Vapore, il genere della letteratura di viaggio, della guida di viaggio. Perché Giannettino è questo bambino di nove anni, biondo, azzurro, che richiama un bambino che appartiene alla classe borghese. Sono libri che sono indirizzati ai bambini appartenenti alla classe borghese dell'epoca, i bambini che potevano andare a scuola. Ma il bambino Giannettino, quello che lui descrive, biondo e gli occhi azzurri, è effettivamente, come vedremo alla fine, il bambino Pinocchio dell'ultima pagina appunto del libro, dell'avventura di Pinocchio. Giannettino, questo fanciullo che è discolo, a cui non piace andare a scuola, si imparca in questo viaggio che lo porta dall'Italia settentrionale all'Italia meridionale, addirittura fino in Sicilia. Fino a circa metà dell'Ottocento era stata la letteratura, appunto anche con grandi letterati, tra l'altro dell'epoca intellettuali come De Sanctis, che credevano pienamente nel fatto che doveva essere la letteratura che doveva formare il nuovo italiano. Nella seconda metà dell'Ottocento, un po' questa anche con la riforma della scuola, questa idea cambia e viene inserito lo studio della storia e della geografia, che prima venivano considerate materie secondarie, adesso invece vengono presentate, vengono consigliate decisamente come materie importanti. effettivamente abbiamo un'Italia che si è appena formata ed è importante conoscere quelle che sono le varietà geografiche e anche le diverse storie. Ed ecco che Collodi fa anche questo lavoro. Giannettino gira l'Italia e quello che fa è anche di girare determinati, di visitare posti, luoghi, simbolo anche della storia contemporanea. Spesso la storia contemporanea non veniva inserita nei programmi scolastici, invece quello che Collodi fa è quello di inserire in questo viaggio di Giannettino delle tappe in cui Giannettino va a visitare dei luoghi chiave delle varie guerre di indipendenza, luoghi che, come avevo detto prima, erano già stati visitati da Collodi durante appunto le sue esperienze come volontario in queste guerre. Giannettino gira anche appunto luoghi simbolo della letteratura, appunto logicamente da Dante a Boccaccio ad Ariosto ad Alfieri e così via. Per quanto riguarda la lingua, anche qui come dicevo prima, lo stile è particolarmente gaio, umoristico, però senza togliere nulla a quello che è lo scopo principale di questi scritti che è appunto quella dell'insegnamento. Ma fa anche un'altra cosa Collodi, nonostante appunto siamo pieni a questione della lingua e come dicevo prima, appunto l'uso del toscano è una lingua standard, è quello che si mira a una delle principali funzioni di questi libri di testo, quello che però, questi libri di lettura per l'infanzia, quello che Collodi fa è quello di prestare attenzione anche alle varietà regionali, e alle differenze regionali. Ed ecco che inserisce all'interno di questo viaggio di Giannettino incontri con personaggi in cui viene anche sottolineata la diversità linguistica e regionale. I racconti si inseriscono, come avevo detto prima, in questo intento di Collodi di proporre un modo per formare ed educare quello che è il nuovo italiano, il nuovo fanciullo, appunto il nuovo... quello che troviamo però effettivamente è anche una forma di autocritica e lo si trova in una delle pagine di Collodi, in una delle pagine, scusate, del Pinocchio, nel momento in cui Pinocchio diventa il primo della classe. Gli altri bambini fortemente invidiosi di questo successo del Burattino cominciano una zuffa, una battaglia, una battaglia di libri. Ed ecco che si lanciano libri che vanno al libro di grammatica, dal libro di lettura, al libro di scolastici. Nella traduzione in inglese non sono presenti, ma nella versione originale in italiano Collodi inserisce anche i suoi stessi libri, che vanno i sillabari, le grammatiche, i gianettini, i minuzzoli. Ecco quindi che questi libri che poi alla fine vanno a finire in bocca ai pesci, i pesci disgustati, li sputano perché effettivamente in questa maniera abbastanza sarcastica non è roba per noi, noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio. La riflessione di Collodi quindi è abbastanza sofisticata e abbastanza complessa perché Collodi, come appunto lo stesso dichiara, la migliore educazione pratica che possa acquistare un ragazzo è quella che il ragazzo impara da sé, modellandosi sull'esempio delle persone per bene e proponendosi di adempiere continuamente i propri doveri verso i genitori, verso i maestri e verso la gente da più di lui. Questa concezione non si impara sui libri, né c'è barba di maestro che possa insegnarlo. Ed ecco che questa è la visione di Collodi che è quella appunto di credere come i fanciulli, i bambini si potessero formare con l'esperienza, l'esperienza di vita. Ed ecco che Giannettino impara viaggiando, spostandosi. E Giannettino che è quasi un prototipo di Pinocchio e che impara grazie alle varie esperienze, esperienze che sono positive, negative, sono esperienze di sofferenza, esperienze di morte, la fame, esperienze anche di sofferenza al proprio corpo, esperienze di perdita. Quello che alla fine però Pinocchio fa è quello di imparare al di là di quello che gli viene, gli vuole essere inculcato dagli altri, sia che sia la fata, sia che sia il papà a geppetto, sia che siano altri adulti, sia che siano animali che vanno dal grillo parlante, al tonno e ad altre figure che si inseriscono nel racconto. Il bambino impara, quindi vivendo in prima persona, quelli che sono questi momenti e queste disavventure. Ed è in questa maniera che può acquisire e può raggiungere, può conquistare quella che è la libertà. Quindi è una scelta che il fanciullo, che è il bambino, deve fare in maniera indipendente. Appunto sappiamo benissimo l'Italia del tempo, era un'Italia prevalentemente di gente che è ancora... L'Italia aveva un elevato tasso di analfabetismo. Ed è un'Italia in cui viene introdotta, in particolare in seguito alla seconda metà dell'Ottocento, la famosa legge Coppino. Questa nuova legge, che aveva lo scopo di rimodernizzare l'istruzione, prevedeva appunto l'inserimento di nuovi testi scolastici, un'istruzione prevalentemente laica, imponeva però, rendeva però l'istruzione obbligatoria, fino all'età di nove anni. Collodi è apertamente critico di questa nuova legge, di questa legge appunto di queste scelte, perché, come dicevo prima, per lui è una forma di costrizione, è tra l'altro una legge che non tiene in considerazione quelle che sono le differenze di classe, le differenze all'interno della stessa nazione. Molti bambini non si potevano neanche permettere di andare a scuola perché dovevano lavorare per aiutare la famiglia. Ma sono appunto queste costrizioni verso le quali Collodi esprime, diciamo anche, verso le quali appunto non è pienamente d'accordo. Come sostiene lui, anche in diversi suoi scritti, c'è un bambino che deve essere pienamente libero di essere ciuchino, di essere asino o non lo essere. Ma perché forme anche di istruzione, diciamo così fortemente istituzionalizzate, per Collodi rappresentavano anche una forma di controllo appunto della libertà, forme anche di costruzione. Volevo dire un'altra cosa, all'interno di questa sua riflessione nei confronti dell'infanzia c'è anche questa attenzione per i bambini per un'infanzia difficile, l'infanzia di coloro, di bambini che non si potevano permettere non solo di andare a scuola, non si potevano permettere tante cose. Mentre Giannettino e Minuzzolo erano bambini, come dicevo, come avevo detto prima, bambini che appartenevano alla borghesia, invece Pinocchio diventa un personaggio che appartiene appunto a una classe decisamente più bassa, quasi pluretaria. Alcuni anni prima di Pinocchio, Collodi aveva scritto degli articoli che poi aveva messo insieme in stampa, portavano il titolo di un ragazzo di strada. E un ragazzo di strada tratteggiava chiaramente, e anche qui abbiamo quest'altro prototipo di Pinocchio, tratteggiava quello che appunto sarà il Pinocchio nelle avventure di, nella storia di un burattino. Questo bambino talmente povero che non sa, non conosce nemmeno il proprio nome. All'interno di questi racconti comunque, e all'interno anche della stessa storia del burattino, c'è un'altra critica, che è quella che si allaccia appunto a questa idea di libertà. Molti bambini dell'epoca erano degli schiavi, gli schiavi bianchi, come spesso venivano definiti anche dagli stranieri, da americani, inglesi, che scrivevano spesso anche sulla condizione del lavoro minorile in Italia, li definivano appunto white slaves, sia che bambini che lavoravano nell'industria, bambini che lavoravano addirittura nelle miniere, nelle miniere del sud, in Calabria, in Sicilia. E all'inizio della storia del burattino effettivamente collò di evidenzia anche come spesso questa invanzia veniva sfruttata dagli adulti. Se ricordiamo bene, Pinocchio, Geppetto, lo scopo principale di Geppetto era quello di creare da questo tronco, da questo pezzo di legno, un burattino che potesse servire a lui per poter guadagnare, per poter vivere bene. Quindi questo bambino, cioè questa creatura, che poi alla fine serve essenzialmente per lo scopo utilitaristico, completamente economico, degli adulti. Ecco, quindi questa critica alla società contemporanea, al materialismo appunto di questa società ottocentesca. A cui però lo stesso Burattino si ribella perché appunto scappa e decide appunto di andare incontro alle varie esperienze. Ecco, trovato la citazione, quello che appunto, ancora una volta, quello che sostiene a quest'obbligo in tutti di sapere, almeno leggere, scrivere, non so appunto se sia veramente un bene o un male. Rispettiamo anche gli analfabeti. Pinocchio è concludo, quindi nasce, come dicevo, come questo viaggio appunto di Collodi. Nasce negli anni 80 dell'Ottocento. Collodi viene invitato a scrivere dei racconti per fanciulli nel giornale dei bambini. Era un giornale, una pubblicazione che aveva anche questa una funzione prettamente pedagogica, di cui appunto poi di questo periodico anche lo stesso Collodi diventa uno dei produttori. Il giornale, le avventure di Pinocchio nascono quindi nel 1880 e come molti sanno, Collodi le pubblica appuntate, ma arrivata alla quindicesima puntata decide di chiudere, decide di finire, di concludere. E come sappiamo, appunto, il Pinocchio si conclude con la morte di Pinocchio. Pinocchio viene impiccato dal gatto e la volpe. Ora, logicamente una conclusione di questo genere non era decisamente appetibile e i bambini sembrerebbe appunto che abbiano cominciato a scrivere alla redazione, a protestare perché un racconto non poteva finire in questa maniera. E anche su invito quindi del direttore del giornale dei bambini Collodi riprende a pubblicare le varie puntate fino appunto al trentasesimo capitolo e questi episodi che vanno avanti per altri tre anni. C'è una differenza quindi tra la prima parte, i primi episodi, i primi 15 episodi e rispetto alla seconda perché come molti hanno notato effettivamente nel momento in cui Collodi prende questo impegno di continuare per altri 15, oltre 15 capitoli l'intento diventa molto più marcatamente pedagogico rispetto ai primi 15 capitoli. La lingua che utilizza è quella lingua che lui aveva già quello stile che già conosciamo appunto negli scritti giornalistici nei racconti per l'infanzia nei romanzi e anche nelle opere teatrali. Utilizza spesso sempre questo registro scherzoso colloquiale e va alla ricerca di una lingua non letteraria ma mediana ed ecco che alcuni studiosi a Sorrosa hanno definito la struttura di Pinocchio una struttura di compromesso appunto per questa lingua che va da una lingua letteraria che ha lo scopo di avvicinarsi ai bambini ma che mantiene diversi toscanismi. Nel corso degli anni Pinocchio è stato visto e rivisto non solo da Collodi addirittura Collodi spesso dichiara che non si ricorda neanche di aver scritto alcune cose poi viene rivisto dai vari editori che apportano delle correzioni limano alcune volte anche degli eccessi di toscanismi nel corso degli anni. Ma questa struttura di compromesso che è stata messa in evidenza da diversi studiosi sta anche in quello che dicevo prima cioè nel fatto che siamo a metà tra una favola e un racconto di una realtà di una Toscana di un'Italia dell'epoca quindi questo stare a metà non solo linguisticamente ma anche per quanto riguarda appunto la narrazione i personaggi Collodi da quello che abbiamo visto non vede effettivamente l'infanzia come tutta rosa e fiori ed è per questo che il racconto di Pinocchio è stato spesso definito anche un racconto spesso triste sono momenti appunto come abbiamo detto di tragedia di dramma quasi perché effettivamente era la realtà ed era una realtà che lo stesso Collodi aveva assaggiato di cui aveva avuto esperienza perché proveniva come ho detto prima da una famiglia abbastanza umile e bambini come Durattino Pinocchio lui li aveva visti durante appunto la sua infanzia Pinocchio è stato visto anche e non mi soffermo perché come dicevo prima questo personaggio poliedrico è come una narrazione a diversi livelli è stato analizzato appunto come dicevo prima attraverso la simbologia cristiana mitologia mitologia classica e così via ed è vero Collodi come abbiamo detto questo scrittore questo letterato sofisticato effettivamente inserisce vari riferimenti intertestuali che si rifanno effettivamente alla sua formazione culturale ed è caratterizzato come abbiamo detto prima da questa mobilità da questo dinamismo da questa moltiplicità di significati ma come concludo come molti hanno hanno sempre sostenuto si tratta effettivamente di un'esperienza prettamente antropologica perché quindi di un lavoro molto serio che Collodi fa rivolgendosi non solo ai bambini ma essenzialmente agli adulti non è soltanto quindi un'esperienza dell'essere umano in tutte le sue condizioni che vanno come ho detto prima dal bisogno di affetti la prova della fame la lotta per la sopravvivenza la durezza del lavoro l'esperienza della fatica necessaria come avevo detto prima per raggiungere anche quella libertà e quell'indipendenza la conoscenza appunto della morte la necessità della giustizia anche perché in un momento in cui Pinocchio richiede si presenta davanti al giudice allo scimmiotto e anche la necessità dello sbaglio attraverso il quale il bambino l'essere umano può imparare Pinocchio maschera anche deriva da quelle esperienze anche teatrali che Collodi aveva come abbiamo visto aveva esperienza una scrittura anche prettamente ironica e come appunto alcuni studiosi hanno fatto notare appunto la stessa Daniela Marcheschi c'è questo continuo riferimento anche diciamo all'umorismo leopardiano e come attraverso l'umorismo si possa raccontare la realtà ed ecco che concludo tornando a questo umorismo e a questo spesso amaro di Collodi la conclusione di Pinocchio la si può anche intendere come una conclusione non del tutto diciamo gioiosa ma attraverso l'umorismo Collodi effettivamente apporta ancora una volta una critica a quella che è la società contemporanea la società borghese dell'epoca come ho detto prima Pinocchio diventa si trasforma si sveglia si rende conto di essere di aver realizzato quello che è il suo sogno di essere diventato un bambino biondo con gli occhi azzurri quella specie di Giannettino che abbiamo visto prima e si gira e vede sulla sulla sedia questo burattino che lui era prima abbandonato tutto quasi senza vita immobile e rivolgendosi a quel burattino appunto si rende conto ma com'ero ridicolo com'ero diverso quando ero un bambino e sono contento di essere diventato un un bambino vero e proprio ed ecco che in un certo senso come alcuni hanno notato è effettivamente sì quella che può sembrare una conclusione lieta ma allo stesso tempo è lo stesso Collodi che sta facendo un'analisi in un certo senso ancora una volta questo 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 lancio diciamo questo attraverso un po' il ridicolo attraverso l'umorismo nei confronti di Pinocchio alla fine si è trasformato in tutto quel mondo che Collodi aveva criticato per anni che è il mondo appunto del materialismo della borghesia ottocentesca questo bambino che è circondato da mobili dai vestiti adesso è un bambino per bene il papà finalmente già petto insomma è vestito anche lui per bene quindi è pienamente una critica nei confronti della cultura ma questo voler smascherare anche la falsità nei confronti della società del tempo della cultura ma anche appunto della letteratura stessa e quindi io concluderei in questo in questa maniera grazie bene adesso che mi è stata rivelata la voce ti posso ringraziare per l'ottima descrizione interpretazione e presentazione di un personaggio che al di là di essere l'autore di Pinocchio molto probabilmente non era poi tanto conosciuto anche a noi italiani personaggio molto particolare chiaramente che aveva in mente forse una missione educativa anche per i parenti per i genitori piuttosto che per i figli io vorrei sapere se ci sono delle persone se c'è qualcuno che ha delle domande da fare mi sembra che ci sono delle richieste e vorrei appunto passare la voce a queste persone che hanno delle domande da fare a Giorgia posso fare una domanda Fabio? sì Giorgia grazie mille ho trovato molto interessante non leggo Pinocchio da quando ero bambina quindi devo ammetterlo cosa trovo di molto strano in Collodi è il fatto che non era un sostenitore della scuola obbligatoria per i bambini ed aveva affermato appunto che si può essere anche analfabeti che va bene essere analfabeti ma allo stesso tempo lui sta scrivendo questi libri per educare i bambini è una sua forma pedagogica quindi come si aspetta che i bambini imparano come comportarsi i principi di moralità di etica e di giustizia se non sanno leggere? grazie di quello che potevano essere le costrizioni gli obblighi istituzionali di quell'Italia che lui trovava particolarmente deludente ora non è che Collodi è per un'infanzia analfabeta effettivamente i bambini dovevano essere istruiti dovevano imparare a leggere dovevano imparare a scrivere quello che lui ritiene è come ho detto prima che dovevano imparare anche attraverso quelle che erano a discernere anche attraverso le letture che sia che gli venivano imposte dai maestri ma che gli venivano imposte anche da lui stesso perché come dicevo prima fa anche questa sua autocritica a discernere quello che doveva quello che era il bene quello che era il male quello che era in un certo senso utile buono imparare quello che poteva essere messo da parte la scrittura per l'infanzia ecco che lui inserisce un po' quindi queste esperienze di personaggi di bambini che che si ribellano agli adulti effettivamente da Giannettino da Minuzzolo che arriva ad un certo punto scappa e scappa su un asino che appunto richiama un po' anche la stessa esperienza di di Pinocchio era attraverso appunto anche attraverso la lettura che i bambini potevano apprendere quella che erano la libertà come ho detto prima cioè la forma di indipendenza è appunto imparare attraverso in particolare l'esperienza vera e propria l'esperienza della vita di tutti i giorni quindi sì ci sono queste forme un po' ambigue nella sua produzione letteraria però in un certo senso rientrano un po' in quella che era la sua visione pedagogica quello che fa alla fine è anche lo stesso la stessa idea di creare per esempio un burattino dal un pezzo di legno questo fatto questa possibilità anche di tirar fuori diciamo del buono del possibile da qualcosa che è una materia una materia rientra un po' in questo suo tentativo appunto in questo suo voler credere che effettivamente c'è la possibilità di creare un individuo libero in quell'Italia dell'Ottocento ora è anche vero che spesso le sue visioni sono praticamente pessimistiche come avevo detto prima e per questo spesso venivano anche criticate c'è spesso una visione anche in questi racconti come lo si vede anche in Pinocchio questa idea della notte del buio che alcuni hanno fatto notare come in particolare negli ultimi anni della sua vita a partire appunto degli anni 70 negli ultimi 20 anni effettivamente Pollodi perde anche acquista appunto queste forme completamente pessimistiche ai confronti non solo della propria esistenza ma come avevo detto prima anche della situazione della condizione generale della condizione politica della situazione culturale dell'epoca io avrei una domanda Pinocchio innanzitutto grazie è bellissimo che hai detto Giorgia Pinocchio è un libro che rappresenta l'Italia dell'Ottocento ci sono anche carabinieri con i pennacchi tutto tutto manca manca completamente la chiesa manca la chiesa perché siamo in Toscana o perché Giravoce che fosse massone e quindi probabilmente no non so ah sì grazie no non manca la chiesa nel senso che non era questo l'intento e non era questo uno dei delle motivazioni di Pollodi per scrivere per l'infanzia prima di tutto la scuola dell'epoca doveva essere una scuola laica come ho detto prima Pollodi addirittura studia per un breve periodo in seminario da lì poi effettivamente decide che la chiesa non era per lui e non era decisamente credente lui inserisce comunque questi elementi cristiani all'interno del racconto se la chiesa non è presente però ci sono questi riferimenti che molti hanno notato e che sono addirittura quasi evidenti la figura della Fatina la figura di Geppetto che richiama il nome di Giuseppe quindi della Madonna del papà di Gesù queste forme appunto di sacrificio anche del fanciullo questa forma il rinascere del bambino il risorgere alla fine del racconto il naso che si allunga tre volte appunto decisamente dei riferimenti al Vangelo e così via quindi quello che fa Colloni continua queste sue strategie molto sofisticate cioè inserisce qua e là questi accenni che però in ogni caso sono fanno parte appunto della sua cultura cioè la cultura dell'epoca questa senza nessun nessun intento appunto cattolico ed è per questo che questo è anche una delle chiavi di successo del libro perché diciamo anche aperto alle varie interpretazioni anche a questo punto di vista sì il grillo parlante molti hanno visto insomma diverse simpologiche in cittadini personaggi la patina poi da la Madonna questo perché perché azzurra molti sono posti il problema perché è la fata la fatina la fatina la fatina turchina la fatina turchina questo colore che alcuni hanno visto come appunto rappresentativo dell'immagine della vergine e così via Giorgia ma nella nella slide che hai fatto vedere della legge Opino del 1877 con la scuola obbligatoria fino ai nove anni mi sembra che il primo articolo mostrato lì non includeva l'istruzione religiosa della legge Opino sì non includeva l'istruzione sì dove nella legge non c'è non c'è quello che hai fatto vedere era prevalentemente doveva essere un'istruzione laica per associarmi a quello che diceva prima Antonella come mai non c'è la religione già comunque c'era un'atmosfera dove cercavo forse di tenere separate le due cose quella doveva essere appunto la formazione del nuovo italiano quindi una formazione prettamente laica e non cattolica dell'epoca e per questo che quindi c'è una certa modernità assolutamente nella legge nelle scelte e poi nel 1929 le cose sono cambiate se non c'è nessun altro che vuole fare una domanda o partecipare noi finiremmo qui ringraziando moltissimo Giorgio per la presentazione per l'informazione che ci ha dato per renderci un pochino più ricchi per quanto riguarda il personaggio con il Pinocchio che è stata una forma di indottinazione fin da bambini con i cartoni animati di Walt Disney che ci hanno veramente dislocato il vero senso di questo libro quindi io ringrazio moltissimo e bravissima Giorgia per questo e grazie per avercelo offre grazie a voi grazie dell'invito e grazie ancora una volta arrivederci grazie ciao grazie